L'aumento dei prezzi di alcuni materiali per l'edilizia costringe le imprese a dilatare i tempi dei lavori, rallentando la ricostruzione nel cratere del centro Italia, dove i cantieri aperti al momento sono circa 5.000. Per questo motivo, in attesa di una revisione del preziario in sede legislativa, la struttura commissariale ha disposto un aumento del contributo pubblico di ricostruzione, del 6% per le unità residenziali e dell'11,1% per quelle produttive. Si tratta delle stesse percentuali dell'aumento medio dei prezzi dal 2017 a oggi, secondo l'Istat. Queste misure sono il massimo che è possibile fare con il potere d'ordinanza, ha dichiarato il commissario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Lennini. L'aumento del contributo si applica a tutte le voci di spesa, ha spiegato Lennini, e porta i prezzi della ricostruzione a valori più coerenti con quelli di mercato. Ma i provvedimenti a sostegno delle imprese non finiscono qui, previsto anche un aumento dal 40 al 50% della quota lavori che possono essere subappaltati, così come requisiti meno stringenti per chi dovrà eseguire determinati lavori, stabiliti inoltre nuovi criteri per il rimborso dei danni che il sisma ha causato ai beni strumentali delle imprese, come impianti e arredi. E per andare incontro ai costruttori è stata ampliata la possibilità di usare i fondi INAIL per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questi punti salienti delle ordinanze volte a velocizzare la ricostruzione. La cabina di coordinamento commissariale inoltre ha raggiunto l'accordo per la ricostruzione degli immobili della provincia di Teramo e ha stanziato 100 milioni di euro per il rimborso dei danni causati dall'ondata di maltempo scatenatasi nel gennaio 2017, quando la terra tra Abruzzo, Marche e Umbria stava ancora tremando. Novità anche da Roma. Nel decreto Sostenibis è previsto che il Ministero delle Infrastrutture, entro il 31 ottobre, rileverà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali, verificatesi nel primo semestre di quest'anno, superiori all'8%. Insomma, lo Stato pagherà gli aumenti oltre l'8%, ma funzionerà anche al contrario. Se i prezzi dovessero riabbassarsi, le imprese dovranno restituire la variazione superiore alla suddetta percentuale.